Questa amministrazione comunale che con violenza ha voluto portare avanti questo discorso, ieri sera purtroppo per motivi di salute non ho potuto partecipare al Consiglio Comunale, ha voluto portare avanti senza ascoltare i cittadini, 8 persone secondo me non possono decidere il futuro di 2000 abitanti. Le modalità sono sbagliatissime e invito tutte le associazioni a non mollare, a non mollare significa a non smettere di fare le manifestazioni, dobbiamo continuare con orgoglio a dire la nostra e a farci sentire, perché noi non dobbiamo mollare, perché mollare sarebbe dare la vittoria all'amministrazione comunale di Monbaroccio, che credo che sinceramente è vero che è stata votata in democrazia, ma credo che non rappresenti più tante persone di Monbaroccio. Crede che ci sia stata poca informazione? Sicuramente poca informazione, sicuramente paura, perché io dico sempre che la democrazia è al primo posto, e la democrazia deve essere una cosa importantissima, e per democrazia vuol dire dare la parola ai cittadini, non che siano 8 persone che decidono, ed è per questo che ho voluto oggi dire la mia, la mia contrarietà a tutte le modalità con le quali si sta prondando questa cosa, e che crea in me un clima molto cattivo nella nostra comunità, nella nostra Monbaroccio. Questo mi dispiace, mi rammarica e ho molto dolore dentro di me, perché veramente siamo sfociati in un clima molto brutto. Spera in un referendum? Spero in un referendum, però che i monbaroccesi possano dire la loro, questo me lo sento di dire, perché qui si decide il futuro dei nostri figli. Io non dico né che sia contrario, potrebbe essere anche una cosa buona, ma andava valutata, andava spiegata, andava detto ai cittadini cosa si poteva fare. Sono dispiaciuto, e lo ribadisco ancora, per le modalità con le quali questa amministrazione comunale ha gestito e sta gestendo la nostra comunità.